di quello che vi ha letto e visto. Quindi io dico sì perché la responsabilità sociale di impresa non è fare le donazioni o farsi vedere sconna le ciareti che va benissimo, ma è il vero nostro lavoro quotidiano, cioè la cultura, l'esempio che lasciamo alle nuove generazioni, è il valore del brand Cesena, Romagna, nel mondo, cioè oggi ci siamo detti che vogliamo dare oltre, vogliamo lanciare una nuova sfida. Noi stiamo facendo conoscere la Wellness Valley in tutto il mondo, a Davos ne abbiamo parlato tantissimo, lo stiamo raccontando tutti, solo nel 2022 sono venute qui, nel Wellness Campus 27.000 persone da oltre 80 paesi. Quindi questo valore del marchio Romagna, la Wellness Valley, questa terra che attira studenti, talenti, investitori, turisti, questa terra che porta nel mondo un messaggio. Abbiamo sul territorio di Romagna, Romagna, managers, imprenditori importanti in tutto il mondo.